musica 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 ok è già giorno su è giorno? si scaviamo ancora oppure voglio dire che ci possiamo fermare qua aspetta un attimino che torno in casa questo vediamo anch'io è cresciuta l'erba nei mattoncini ah bello non lo so beh per battere il muro di carne abbiamo circa 40 episodi dipende se sono da 3 minuti in uno sono messo di più saranno tipo 50 papi vuoi fare una cosa bellissima cosa? aspetta sei pronto? eh io si bella da 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 cos'è il porta armatura? e anche estetica si bene allora deposito un po' di roba e poi dopo direi che possiamo finire e anche io devo depositare la roba abbiamo 7 di ferro una cassa in più 5 di team bar si allora io invece monete vabbè le monete non c'entrò un cazzo ho 2 blocchi di ghiaccio 32 blocchi di sabbia 5 blocchi di neve 17 team ore e poi papi quante pozioni di recall hai? 5 tombstone ore no non ne ho più vieni qua allora ma eh tieni come la prendo? aspetta un attimo non so se la puoi prendere da così no devi venire qua sicuro prova ah ok grazie ho un'altra cassa da depositare aspetta eh vai mettila mettila lì di fianco quelle due ecco bene allora fammi depositare eh dunque tungsten ore eh ne ho 5 passamela un attimo passamela un attimo che faccio i bar mmm 5 poi i funghi ne ho 3 i funghi basta che li mangio e li usano per rigenerarsi di energia ok ah papi prima di concludere l'episodio vabbè ma non è che concludiamo l'episodio noi andiamo avanti lo sai ah ok eh io vado a mettere la trappola ah ok mettiamo la trappola posso mettere intanto io intanto metto i muri sai quelli per il il muro di legno si visto che li ho ah li puoi mettere ad esempio lì in fondo eh infatti eh però devi avere il martello ah no le puoi già mettere si le puoi mettere buono almeno abbiamo la casa un po' più in ordine poi dobbiamo rimpiazzare i blocchi e rimpiazzare i blocchi di terra con il con il legno si esatto esatto vabbè ma quelle sono cose estetiche che si fanno magari anche a tempo perso ok fanno ad esempio scennotte esatto devo rimettere le torce eh oh io non so se funziona eh io non è che devo fare da testa non è che si ma che cazzo no sembra non funzionare eh ma devi usare il tastino anche quale tastino? eh a me quando funzionava funzionava con un tastino premevo un tastino e partiva mi metto un tastino vicino secondo me eh ma non ce l'ho che quando viene premuto vabbè bello poi lì tra l'altro colpisce tutti lì eh vabbè è estetica ok è estetica chiudi aspetta che si infatti devo chiudere a posto